Scusa, finisce la categoria 20. C'è corta la 25 e io corro. Non posso fare solo la 30. Potete lo fare anche io. Ma sono partito. Se vuoi anche io ci sono. Tu no. Che carino. No, perché lui dice che gli faccia male. Bellissimo. Ma non è bello. Alessia l'ha fatto bellissimo. Grazie. 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 Benedetta Vanto alla partenza. Monta Van Helsing. Benex in attesa. Quattro le penalità per Elodia della Merina. 78 e 24. Ecco. Com'è? È stata che la sua spotione. Allora una cosa stessa. Per la sua spotione. E' stata riuscita. Grazie a tutti.